Squalifiche al GFVIP, Bernardini De Pace, all'immagine, fossi in loro chiedere il risarcimento. Sulle recenti squalifiche al GFVIP non è affatto d'accordo Anna Maria Bernardini De Pace. L'avvocato che ha difeso tra i personaggi più noti dello spettacolo italiano, tra cui anche Francesco Totti in una delle prime fasi del divorzio dai Larry Blasi. Una svolta, quella delle reality di Signorini, che ha invertito la rotta proprio sul finire di questa edizione. Nel tentativo di riportare un clima e un linguaggio più civile tra i concorrenti. Io sono contro il politicamente corretto, ma proprio contrarissima, commenta Bernardini De Pace intervenuta a casa Chi. Il politicamente corretto elimina la spontaneità, l'umorismo e l'ironia. Ecco perché Bernardini De Pace è d'accordo su quanto detto dal padre di Edoardo Donna Maria che ha parlato di un vero e proprio tentativo di distruzione mediatica da parte del programma nei confronti del figlio. Perché se la sono presa solo con Edoardo Donna Maria? Ha solo detto mi hai rotto il cao. Lo si sente ovunque, ha detto a proposito dell'episodio che è costato la squalifica al concorrente. E anche l'altro che ha preso per il collo la spagnola, si vedeva che scherzava. Ha aggiunto a proposito di Daniele Dal Moro. Allora sarebbero da squalificare tutti, perché tutti dall'inizio sono scorretti dal punto di vista lessicale. L'avvocato sarebbe disposta a portare un eventuale assistito in tribunale, nel caso richiedesse il suo intervento legale. Io farei la causa, chiederei un risarcimento, spiega Bernardini. C'è stato un atteggiamento non condivisibile che ha rovinato la mia immagine. Poi bisogna vedere come sono i contratti. Si c'è scritto che se uno dice una parolaccia può essere squalificato. Sembra chiaro dunque che nella diatriba dei Donnalisi, l'avvocato dei VIP avrebbe parteggiato per Donna Maria. Su Antonella Fiordelisi infatti non ha che pessime parole da spendere. Godo che sia uscita perché non la sopportavo. Ha detto a proposito della sua recente eliminazione. I genitori invadenti. Errore tremendo. Questi che scrivono la lettera e se la prendono con Pier Silvio e altri, ma chi sono? Sunt mai, tot mai sus, 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 sus. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni. Sunt liber sa fiu stapan pe ce fac si ce spun. Stii, nimic nu mai e la fel. Copilaria s-a maturizat sever. S-a lovit pana acum de fel, de fel. De oameni, de păreri, anti pur de caracter. Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar vad si altii care lupta incercand sa mute munți. Oameni care au ceva de scurs. Oameni care vor sa ajunga tot mai scurs. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.